Che cosa hanno in comune JK e un ballerino di amici? Apparentemente nulla, ma in realtà è trappelata un'informazione molto molto importante. Come sappiamo lo scorso 20 novembre JK si è esibito durante l'inaugurazione del mondiale di calcio e indovinate un po' chi c'era nel suo corpo di ballerini? Proprio lui, il nostro Paki! Sì, se non seguite amici forse non conoscete questo ragazzo, ma lui ha 22 anni ed è appena entrato nella scuola e ha proprio ballato durante l'esebizione di JK. Ci rendiamo conto che finalmente abbiamo un collegamento concreto tra questo signorino e il nostro bellissimo paese, cosa che non avviene quasi mai perché sembra che l'Italia sia dimenticata? Ma vi dirò di più, la cosa più bella di tutta questa storia è il fatto che la canzone è cantata da...